Da questa esperienza mi aspetto di aumentare il mio bagaglio personale, la mia passione è migliorare le clienti, renderle più belle e con questo metodo di lookmaker sicuramente riuscirò a migliorare il mio lavoro e quindi avere ancora più soddisfazione. È stato faticoso, è stato impegnativo, però bello perché anche l'ambiente è molto emozionante, ti carica.